Cari teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata agli scheletri. Mi pareva il caso di dedicare questo video agli scheletri perché siamo in aria, diciamo. Halloween o non Halloween, questo è un periodo in cui, insomma, c'è la festa dei morti e, ecco, la presenza dello scheletro è una presenza che da sempre storicamente accompagna questo periodo dell'anno. Certo, nelle letture legate a questo periodo ci sono anche gli zombie, a me interessano di più in questo momento gli scheletri perché gli zombie in qualche modo sono morti, viventi, ma con il corpo e questo richiama tutta una questione, una sfera, diciamo, di argomentazione, invece a me interessa quella dove non c'è il corpo, cioè dove c'è lo scheletro. Quindi quello che vi propongo è semplicemente una carrellata di albi con lo scheletro al centro che sostanzialmente mettono al centro la morte, ma è un mettere al centro la morte in una maniera vitalissima. Ecco, non so se avete visto Coco, il film bellissimo di Disney, pubblicato, mi pare, prodotto da Disney Pixar, ma ecco, quella è l'idea, cioè la vitalità dell'oggetto scheletro, la vitalità del soggetto scheletro perché diventano dei soggetti veri e propri e diventano dei personaggi veri e propri. Ve lo dico già in queste narrazioni che ho scelto che sono tutti albi illustrati sostanzialmente o ci sono anche due narrazioni illustrate, però insomma non siamo dentro storia di paura, non mi interessa in questo momento assolutamente il fatto di generare paura, mi interessa come viene giocato lo scheletro all'interno di queste narrazioni. Vado, parto, parto dalle due narrazioni illustrate, quindi questi sono due libri di narrativa illustrate. Il primo, e va bene, lo sapevo che lo sapevate pure voi che dovevo mettere questo come primo, è ovviamente Il teschio di John Klassen. Meraviglia! È un libro, questo sì, questo sì, che turba, turba e forse anche perturba, in cui questo scheletro in realtà è un teschio che si deve riconciliare con il proprio corpo e riesce a farlo grazie ad una bambina. È interessante, molto, molto, molto interessante come funziona. Poi, insomma, il corpo dello scheletro fa una pessima fine, invece il teschio resta in compagnia della bambina e potremmo proprio chiudere la narrazione con e vissero tutti felici e contenti dove il tutti sono il teschio e la bambina felici e contenti senza il corpo in formato scheletro. Veramente che se uno ci si mettesse ad analizzarlo in altre modalità potrebbe trovare qualcosa di interessante da riflettere. Ecco, poi vado su questo libro che è nuovissimo, Martin, lo scheletro. Esce peraltro oggi, mi pare, la recensione per i writers che ho fatto di questo libro. Ve lo lascio nei commenti. Allora, questo libro intanto va colpito per la bellezza del fluo. Vabbè, voi dite che ci azzecca. Se un libro è bello ci azzecca sempre, nel senso che ha questo tipo di gioco con il colore che è veramente straordinario. Questa è la storia di uno scheletro, di quelli che abbiamo incontrato tutti quanti nelle nostre scuole. Un giorno il teschio va in pensione, viene mandato in pensione dalla scuola e lo prendono in affido due vecchietti in una casetta nel bosco. Il vecchietto e la vecchietta. Martin verrà rimesso a posto, verrà accolto totalmente nella famiglia, diventerà un compagno di giochi per i nipoti, diventerà persino nel desiderio del vecchietto il compagno con cui condividere la bara. Non sarà però al vecchietto morire. Io non vi svelo niente, però questa narrazione mi è piaciuta molto. È molto lieve, tocca degli elementi interessanti e poi davvero è proprio bello da avere tra le mani. Vado avanti con un libro che uscita un po' fa e che fa veramente un'impressione forte. È un libro emotivamente forte da leggere anche ad alta voce ed è Il piccolo pescatore e lo scheletro di Chen Yang Hong edito da Camelo Zampa. Questa è la storia di un piccolo pescatore che finisce in una specie di tempesta e poi arriva lui. Ragazzi, la prima volta che l'ho visto mi ha preso un colpo. Arriva questo scheletro che in realtà porta in salvo il bambino e si mettono a vivere insieme e poi si scoprirà che questo scheletro, proprio il scheletro, in realtà non è, ma non ve lo svelo. Anche qui lo scheletro è un simbolo ed è proprio un simbolo, una metafora. Insomma, è qualcosa che richiama quel confine tra la vita e la morte. Vado avanti con l'incredibile, meravigliosa serie di osso a spasso. Adesso è appena uscito l'ultimo che si intitola Dinosauri da sogno. Il primo è stato osso a spasso, poi è uscito Il negozio degli animali, La gatta nera, Notte di botte e poi appunto Dinosauri da sogno. Questa è la storia di uno scheletro grande, uno scheletro piccolo e uno scheletro cane che la notte si svegliano e si devono divertire e devono vivere come quelli che invece stanno svegli di giorno, solo che loro hanno un mondo fatto di scheletri. È tutto molto divertente, può essere anche divertente vedere come gli scheletri vivano come quelli che non sono scheletri di fatto, ma è tutto rovesciato. La traduzione dei libri di Chiara Carminati io la trovo di una sonorità meravigliosa e non poteva mancare insomma la serie in questa carrellata. Vado a chiudere con l'ultimo albo che è questo, Tenebrossa di Jean-Luc Flumentale e Joël Jolivet edito da Orecchio Cerbo. Anche questo libro è caratterizzato da un colore meraviglioso, da una storia interessante alla Sherlock Holmes perché bisogna ritrovare delle ossa che scompaiono e poi la copertina, anzi la sovraccoperta, diventa un magnifico poster scheletroso di quelli che uno si può tenere anche in effetti in classe. Ecco, questa è la mia piccola carrellata scheletrosa. Non so che impressione facciano a voi gli scheletri, devo dire che a me risultano dei personaggi particolarmente, come posso dire, per me sono particolarmente interessanti. Non ho una predilezione spassionata per le storie di paura e quelle che vi ho proposto, anche se ci sono tra lo scheletro e il piccolo pescatore, tra il teschio e il piccolo pescatore e lo scheletro ci sono anche insomma dei brividini, però insomma il punto non è la paura. Per me in questo momento il punto era proprio lo scheletro come personaggio di soglia tra la vita e la morte in maniera diversa da come fanno i fantasmi, per esempio, come fanno gli zombie, per esempio. Insomma, anche perché il fantasma perde il corpo, perde tutto, insomma è un ectoplasma appunto. Lo zombie, dicevamo, mantiene il corpo. Lo scheletro ha di particolare che è qualcosa di concreto e vero, cioè lo scheletro, che abbiamo tutti lo scheletro dentro, che sopravvive alla parte invece completa. Ma in quasi tutti questi casi, direi in tutti questi casi, mantiene le facoltà umane e le facoltà mentali e soprattutto empatiche. Ecco, questo mi interessava di più. Io qui vi lascio, ci vediamo la settimana prossima. Intanto buone letture di qualsiasi natura, con qualsiasi personaggio del mondo reale, del mondo immaginario, vivo, morto, sulla soglia, come vi piace a voi. Insomma, vi ricordo che ci leggiamo tutti i giorni su testefiorite.it. Vi invito sul portale di Teste Fiorite Lab ad approfondire alcuni aspetti della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Ciao Teste Fiorite!